Ristretto Italiano. I media internazionali scrivono di noi. Buongiorno, ecco qui un altro Ristretto Italiano fresco di stampa. Un'altra puntata che comincia con gli scatti d'ira della Meloni. Scatti d'ira che sono ormai così frequenti che non fanno più notizia. Però l'arrabbiatura di quando ha scoperto che a sua insaputa l'ex premier, oggi 85enne, Giuliano Amato è stato nominato a capo della Commissione sui rischi dell'intelligenza artificiale. Ecco, quella sfuriata lì non è certo sfuggita alla stampa internazionale. Saprà che cosa è Google, titola The Telegraph da Londra, riferendosi a Giuliano Amato. E su di noi commenta, se non è una dinosaurocrazia quella. Telegraph fa notare, tra l'altro, che per lo stesso incarico, come quello attribuito a Giuliano Amato, in Gran Bretagna è stato scelto un esperto di informatica quarantenne, imprenditore digitale formatosi a Cambridge, fondatore di diverse start-up, alcune delle quali proprio nel campo dell'intelligenza artificiale. L'articolo si dilunga poi a descrivere Giuliano Amato e il milione di cose che egli è stato e che rappresenta in Italia, ricostruzione che a voi risparmio perché noi lo sappiamo tutti benissimo, dando poi voce a chi in Italia sottolinea come anche questa scelta dimostri quanto siamo un paese vecchio e conservatore. E sono scoppiate le polemiche sui social e non solo da chi sostiene che il vecchio saggio non è nemmeno capace di inviare uno screenshot su WhatsApp a chi accusa l'Italia di soffrire della sindrome di Albus Silente. Quando le cose vanno male non le capiamo e consultiamo un vecchio saggio. Ma chi ce l'ha messo alla fine all'intelligenza artificiale? La risposta del Telegrafo ai suoi lettori indica la responsabilità di un sottosegretario di Forza Italia, partito della maggioranza, che di giorno in giorno è sempre più spina nel fianco della nostra prima ministra. Argomento di copertina del nostro podcast di oggi. Dieci giorni di controlli alla frontiera con la Slovenia non basteranno. Il titolo è della slovena Zvaset Stiri Ur, che trovo interessante per vedere la sospensione italiana di Schengen, di cui da giorni noi parliamo, in controcampo, cioè vista dall'altra parte del confine. La constatazione che le frontiere di Trieste e Gorizia sono tornate per restare a lungo viene dalle parole del ministro Piantedosi lunedì alla Camera. Una decisione non facile per il nostro governo, ma necessaria per contrastare gli ingressi illegali a cominciare da quelli dei potenziali uomini e donne di Amasse. Nei primi due giorni e mezzo, da sabato a lunedì, alle frontiere di Trieste e di Gorizia sono state controllate 3.142 persone e 1.555 veicoli. Sono stati individuati 66 non aventi diritto. A me non piace chiamarli clandestini dal momento che oltretutto in Italia non sono nemmeno entrati. E sono state arrestate due persone, una delle quali è accusata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Decisione è quella dei controlli di frontiera, che comunque al governo di Ljubljana sta bene, un po' meno ai lavoratori transfrontalieri, in quanto loro stessi, gli sloveni, hanno sospeso Schengen ai confini con la Croazia e con l'Ungheria, che oggi rappresentano i confini esterni dell'Unione Europea. Non siamo un paese per giovani e questo è assodato. Un po' come per emigrazioni interne di 70 e 60 anni fa, quando i giovani salivano dal meridione per trasferirsi a Milano, a Torino, nelle città del nord, il numero dei ragazzi e delle ragazze che lasciano l'Italia per qualsiasi posto più a nord aumenta di anno in anno. Sono 337.000 gli italiani fra i 24 e i 34 anni che hanno lasciato l'Italia dal 2012 al 2021 e questo, tra l'altro, a fronte di una natalità sempre più bassa, anche perché loro sono i futuri potenziali genitori e i figli li vanno a fare all'estero. Se ne è accorto anche il quotidiano austriaco di presse che ieri titolava L'esodo dei talentuosi, riferendosi a noi. Perché, se c'è una novità, tra l'altro, rispetto alle emigrazioni interne del Novecento che citavo prima, quella è che oggi, più che le braccia, partono i cervelli. Il caso citato da di presse è quello di Federica Zardo, politologa ormai 38enne nel 2016, quando vide finalmente accolta una sua domanda di lavoro, ma la mail arrivava da Vienna, dall'Istituto per la Ricerca Europea. Lei rispose di essere incinta, ma per loro quello non era un problema ed ebbe anche il tempo di lavorare subito due mesi prima del concedo di maternità, trovando, racconta oggi, molta comprensione tra i colleghi. Zero conoscenza della lingua tedesca all'inizio, oggi la ricercatrice è ancora là. Dice che l'Italia un po' le manca, che un giorno le piacerebbe tornare e pensa che tornerà, ma non prima che i suoi figli, oggi di 6 e di 4 anni, diventino grandi, perché lì, racconta ancora, la vita sociale è a misura di famiglia. Attenzione però a non autoflagellarci. In Italia c'è del bello e anche tanto, come spiega un articolo della tedesca Welt, che parla dell'abitudine tutta mediterranea e italiana a ritrovarsi nelle piazze e titola Non si può avere un atteggiamento più italiano nei confronti della vita. A differenza della Germania, attacca l'articolo, nelle città italiane c'è sempre qualcosa da fare in piazza. Se da noi, cioè da loro, perché sono loro che scrivono, se da noi scrivono con la chiusura dei negozi, mai dopo le 6, le strade del centro si vuotano, in Italia le persone passeggiano, stanno insieme, parlano, ridono, sorseggiano un aperitivo. In Italia la piazza, anche se di piazza è piazzetta, ce ne sono tante in ogni città, e in ogni paesino, la piazza, dicevamo, è quella centrale. È lì che si va quando si dice ci troviamo in piazza. È lì qualcosa da fare, c'è sempre fino a tardi, perché i negozi, grazie alla pausa del pranzo, sono aperti fino a sera inoltrata. L'articolo cita, per cominciare, la vivacità di Trento, una delle prime città che i tedeschi incontrano entrando in Italia, ed esalta la meravigliosa piazza Duomo, quel luogo dove, dal 1545, si tenne il concilio di Trento, un luogo a metà strada tra Roma e Germania, appunto. L'articolo cita poi altre celeberrime piazze da Piazza Navona alla Piazzetta di Capri. Concludiamo a Bologna. L'aumentata pendenza della torre bolognese della Garisenda sta attirando truppa da tutto il mondo nel capoluogo emiliano, come la CNN, che ha intitolato il proprio servizio, chiusa per cedimento la torre pendente di Bologna, che poi, la minore delle due torri simbolo dei bolognesi, l'altra è quella degli asinelli, come quella di Pisa pende da secoli, praticamente da subito dopo della costruzione. La Garisenda di quattro gradi, uno in meno di quella di Pisa. Costruita nel XII secolo, quando Bologna era un po' la Manhattan del Medioevo, con le famiglie che facevano a gara a chi la costruiva più alta, la propria torre, la Garisenda, proprio per la sua appendenza, fu successivamente accorciata a 48 metri, che fosse già pendente agli inizi del XIV secolo, tra l'altro è certificato da Dante Arighieri che descrisse la vertigine che si prova guardando il lato pendente. Venendo all'oggi, il servizio di CNN racconta ai propri spettatori che le strade circostanti sono state bloccate e il sindaco ha commissionato l'installazione di nuovi sensori e l'implementazione del monitoraggio iniziato già nel 2018 che oggi viene arricchito con l'utilizzo dei droni che controllano anche dall'alto. Mi fermo a Bologna vi aspetto domani sempre qui sempre con Ristretto Italiano e sempre se vi piace consigliatelo ai vostri amici.